o bella lì ragazzi benvenuti e bentornati sul canale allora siamo su oxygen not included in sostituzione a satisfactory per un po perché satisfactory sembra che non venga aggiornato da un bel po quindi lo abbandoniamo finché a dicembre gennaio non verrà fuori qualcosa di nuovo vedremo vedremo si spera in base alle notizie sembra che qualcosa faranno comunque per fine anno inizio dell'anno prossimo vedremo allora questo è un giochino molto molto complicato molto difficile non sono mai riuscito a portarlo a termine quindi non siamo mai riusciti arrivare in cima all'asteroide ho fatto diverse partite me lo sono ce lo siamo giocato un bel po anche in live anzi ricordatevi che qua siamo in live oggi quindi questa è semplicemente una registrazione appunto delle dirette e direi che possiamo iniziare una nuova partita e vediamo un po come andrà questa la la partita precedente è stata compromessa quindi vedremo come andrà questa allora modalità di gioco se scegliamo sempre un gioco da ragazzi perché è veramente fin troppo complicato l'asteroide andiamo sempre comunque sul sulla terra un asteroide terra ricco di risorse di vario genere probabilità di sopravvivenza ottime impostazioni di gioco lasciamo così com'è al massimo cambiamo un po il semi di generazione sensibilità alla fame stress ravevare lasciamo tutto basso perché è davvero troppo complicato finché non alzeremo la difficoltà finché non riusciremo ad arrivare almeno su fin in cima e bene o male completare gli obiettivi primari del gioco quindi avviamo la partita così com'è ci sono varie asteroide da poter scegliere quello un po più verce verdante un po più verdeggiante appunto c'è quello basato sul magma io bene o male non li ho visti tutti non li ho avviati tutti ma comunque la descrizione abbastanza esplicativa qui bisogna scegliere i nostri prima i primi tre personaggi allora io punto sempre a scegliere tre personaggi con degli interessi primari cioè in questa maniera tipo questo perché ogni perché positivo da un più 7 sul super stesso se ce n'è uno solo se sono due più tre se sono tre invece più uno quindi allora il primo andiamo a selezionare il nostro costruttore che secondo me sono quelli basilari per l'inizio lo scavatore e il terzo si può scegliere se optare fra un operatore un ricercatore o uno spazzino uno spazzino forse proprio utile se si vuole tenere la base un attimo un po più pulita fin dall'inizio però vabbè il ricercatore se si vogliono fare ricerche molto velocemente io a questo punto visto che ho sempre scelto lo spazzino ad operatore l'operatore quello che lavora sulle macchine più velocemente diciamo ecco che lavora sulle macchine con più enfasi visto che ho sempre scelto operatore e spazzino ma voglio portare avanti la ricerca molto velocemente io direi di andare sul ricercatore a sto giro quindi qua possiamo sciuplare quindi cambiare i nostri i nostri personaggi al nostro piacimento solo i primi tre perché poi prossimamente verranno fuori random quindi dobbiamo prendere quel che c'è quel che viene allora scelgo i personaggi allora per riepilogare ho scelto i personaggi abbiamo marcegaglio che è il costruttore costruzione più 7 caterpillar scavo più 7 nicola tesla che a ricerca più 7 hanno delle dei perche positivi e negativi abbastanza tranquilli non ci sono in giro distruttivi praticamente reazioni allo stress distruttori non ce ne sono quindi si può partire così via siamo finiti praticamente nel bel mezzo dell'aspetto dell'asteroide abbiamo raggiunto la nostra destinazione ma qualcosa non va il piano prevedeva che ci saremmo ritrovati sulla superficie del pianeta e invece pare che siamo intrappolati diverse miglia in profondità le nostre risorse sono limitate ma siamo costretti a stabilire qui la nostra colonia dopodiché penseremo a come fuggire da questo posto allora iniziamo iniziamo intanto mettendo in pausa e dando un'occhiata che cosa abbiamo intorno per quanto riguarda la roba commestibile abbiamo 16.000 calorie di barrette nutrienti quindi per ogni ogni duplicante dovrebbe consumare circa mille calorie al giorno quindi 3 6 9 12 18 circa per 4 giorni circa vediamo un po che cosa abbiamo intorno c'è un po di acqua qui un po di acqua qui a sto giro io penso che è tanta tanta acqua qua ottimo alghe non ce ne sono tantissime come al solito la mia solita fortuna non a portata di mano insomma però vabbè abbiamo un bel po di ossidite qui come al solito dell'ossidite qui l'ossidite praticamente emette ossigeno ad esempio questo cubetto emette ossigeno per 200 kg quindi bene o male per qualche giorno siamo a posto abbiamo un po di rame io per iniziare direi che vorrei provare impostare questa partita in una maniera particolare nel senso andremo a scavare ea costruire la base in una maniera piuttosto compatta molto compatti staremo compatti e incomincieremo a scavare in tutte le direzioni dei piccoli di tunnel finissimi molto piccoli in modo da vedere se riusciamo a trovare subito e faremo le ricerche molto più velocemente il più velocemente possibile per vedere se riusciamo a trovare subito le spaccature i geyser robe varie di gas mica gas vedere un po che cosa ci serve in modo da poi impostare tutta la base in base appunto alle risorse che riusciamo infinite che riusciamo a trovare quindi incominciamo a scavare per nostra sfortuna l'acqua ce l'abbiamo proprio qua di fianco quindi non si può scavare granché arriviamo giusto fino a qui e scaviamo a questo punto fino a qua e ci facciamo subito il come si chiama il la pompa leva la pompa leva per raccogliere l'acqua allora finiamo di scavare ok l'abbiamo messo già lì possiamo già mettere magari già che ci siamo anche i letti sotto arredo troviamo i lettucci i letti purtroppo li dobbiamo mettere qui vicino qui in questa maniera qua copiamo i cubetti per ora abbiamo solo arenaria quindi in arenaria poi a questo punto io metterei giù anche le latrine aspetta però prima il lavandino mettiamo il lavandino e mettiamo giù le prime nostre tre latrine una due e tre poi vediamo qua se spaccare o no se sarà il caso di rompere scaviamo tutto perché purtroppo qua finché non abbiamo le pompe a disposizione robe varie non si può raccogliere l'acqua qui io credo che allora abbiamo vedo che abbiamo già della melma qua sicuramente saremo circondati come al solito saremo circondati dalla melma più o meno sarà in questa zona eccola qua dove quindi non è che si potrà ci potremmo espandere granché quindi a questo punto io direi che magari e i serbatoi dell'acqua piuttosto che farli come al solito come li faccio di solito in alto si potrebbero fare anche in basso non lo so vedremo vedremo cosa fare ok possiamo anche buttare giù dei compattatori così da incominciare a organizzarci anzi facciamo così compattatori li mettiamo dopo organizziamo subito il la larghezza della base quindi dobbiamo stare qui e qui mettiamoci una scaletta e qua ci mettiamo una scaletta perché io generalmente faccio così generalmente lascio sempre un po di spazio fra la scaletta e il cubetto e il piano in modo da passare con poi con i cavi tubi e non aver problemi in modo anche da far defluire i gas nei tunnel verticali e qui andiamo a mettere come faccio di solito i compattatori di solito io faccio così i compattatori li lascio sempre in mezzo visto che ci espanderemo verso l'alto e verso il basso direi di fare in questa maniera allora qua hanno finito quindi gli diamo che devono usare il bagno solo a destra che praticamente loro quando quando tornano indietro quando entrano nella stanza quando vanno verso da destra verso sinistra non usano il lavandino al contrario invece utilizzeranno il lavandino abbiamo sbloccato un obiettivo doccia letto ok costruisce almeno una latrina e un letto per ogni duplicante nella colonia ok qui facciamo un ulteriore scaletta che va giù qui ci mettiamo un ulteriore affare cinese di questi scaviamo e per ora al va bene così magari scaviamo fino a qua e mettiamo la scala anche qua magari questa no la aspettiamo che finiscano allora a livello di ossigeno non siamo granché messi bene a dire a dire la verità non siamo molto perché c'è qua l'ossilite ma sta ossigenando solo qui quindi io a questo punto andrei a liberare anche questa zona tanto bene o male anche se la consumiamo questa non è un problema cioè al fine bene i letti sono pronti possiamo dargli il assegnarli se li assegnano da soli è in realtà se li prendono da soli però vabbè noi li assegniamo manualmente e via col liscio allora qua hanno quasi finito ecco abbiamo già un problema abbiamo già un problema il fertilizzante sta praticamente facendo filtrare l'acqua qua dentro cosa che io non ho mai non ho mai notato cioè non lo sapevo quindi adesso qua ci si riempirà d'acqua e in questo caso noi cosa facciamo tranquillamente gli diciamo è un problemuccio eh gli diciamo di non scavare qui quindi non va oltre l'acqua e metteremo un cubetto mettiamo semplicemente un cubetto qua ci verrà dentro un po d'acqua però d'altronde questo ci dobbiamo fare allora in questa maniera visto che i problemi iniziano già fin dall'inizio dal primo giorno mettiamo un cubetto priorità 9 li lasciamo comunque andare a dormire tanto comunque un goccetto d'acqua che entra non è molta una volta scavato qua possiamo ripulirla non è un problema grosso dobbiamo vedere come dove mettere le vasche per i liquidi per i liquidi mo decidiamo perfetto me l'hanno sistemato adesso qua posso aprire e decidere dove mettere le vasche in modo da da poter poi ributtare dentro l'acqua dove dove non ci serve cioè quando non ci serve o quando comunque rimane per terra intanto direi di mettere giù anche la stazione di ricerca nel frattempo siamo arrivati finalmente anche al alla seconda giornata mettiamo giù le batterie magari non lì ma qui mettiamo giù i cubetti pavimenti e andiamo subito a collegare vedremo avere abbastanza si 750 i cavi all'inizio si possono fare con il rame qui nel frattempo che finiscono di costruirci sta roba possiamo andare a scegliere di mettere tutto copiando i parametri in questa maniera tanto qua adesso finiranno poi copieremo questo i parametri di questi compattatori anche in questi quattro boh hanno completato allora possiamo dare una priorità un po più alta magari lasciando un 60 per cento a questo ciò vuol dire che quando le batterie scenderanno del 60 per cento di carica sotto 60 per cento qualcuno andrà a manovrare in questa maniera come se fossero dei topi in gabbia ea questo punto possiamo andare a scegliere le ricerche le prime ricerche che sceglieremo saranno io di solito inizio sempre dall'agricoltura di base andiamo subito solo fino alla cucina così almeno quello l'abbiamo risolto ecco le ricerche poi magari man mano piano piano le vedremo ce ne sono veramente tante da fare tante ricerche io punterei subito ma velocissimamente ai contenitori soprattutto questo qua dei liquidi poi scopriremo per quale motivo forse una piccola modifica la ricerca lo possiamo fare invece di arrivare già direttamente fino a qua potremmo fermarci all'agricoltura di base incominciando per avere intanto di terraria algali e poi andare a sviluppare magari subito l'idrodinamica per avere le pompe e la filtrazione non serve subito la filtrazione però magari l'idrodinamica ce la sviluppiamo in tempo zero in modo che possiamo prenderci tutta questa acqua liberare questa parte e poter e poter cominciare a costruire anche di qua io imposto sempre le altezze in in 4x4 lascio sempre quattro spazi in questa maniera in modo da fare le scale però con si è da fare le stanze considerando che qua ci vanno i compattatori perché noi poi metteremo comunque tutta una serie di compattatori qua e poi andremo a liberare qui per andare a costruirli qua nel frattempo possiamo copiare i parametri qui ok le altezze le lasciamo così e qua possiamo impostare già 1 2 3 4 potremmo impostare con la scala 1 2 3 4 va bene facciamo 1 2 3 4 5 6 lasciamo 6 7 8 cubetti 1 2 3 4 5 6 7 8 facciamo grande così per ora la come si dice il serbatoio per l'acqua pulita e poi vedremo come impostare l'acqua sporca la metteremo qua di fianco intanto qua stanno incominciando a consegnare un po tutta la roba qui copia parametri ok e possiamo andare a mettere la scala fino a qui così liberiamo anche questo ossidite in questa maniera poi l'anidride carbonica prodotta ci cadrà dentro in questa sacca e non è un male noi andiamo giù a scavare e questa sacca qua la teniamo per rielaborare poi la l'anidride carbonica in modo che non ci rimanga dentro nella base dobbiamo scegliere la prossima ricerca vediamo prossima ricerca andiamo subito con l'idrodinamica via aspettiamo che ci finiscano questo lavoro qua qui ci mettiamo un cavatappi al contrario che punta dentro verso la scala così almeno l'acqua l'acqua pulita che troviamo che puliamo in giro la possiamo raccogliere e ributtare dentro nella vasca all'inizio non bisogna preoccuparsi subito del del cibo perché comunque siamo partiti con 16 mila calorie adesso ne abbiamo 20 mila perché comunque scavando si trovano tipo i radiciume si trovano delle robe da mangiare e quindi infatti adesso poi in combustibile abbiamo 7 mila calorie di radiciume quindi per qualche giorno bene o male man mano che si scava non è un problema per il cibo allora una volta completata la scaletta gli diciamo di scavare qua perché spesso e volentieri succede che loro scavano 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 non c'è la scala e rimangono lì come degli scemi rimangono bloccati quindi è meglio prima fare tutte le prime le scale e poi dopo andare a scavare abbiamo finito la ricerca quindi andiamo a selezionarne subito un'altra e a questo punto andiamo subito anche di ventilazione così almeno bene o male risolviamo il problema del dei gas vari in modo da avere anche le piastrelle traspiranti respiranti queste qui che ci permettono di far fluire i solamente gas e non i liquidi avanti indietro per la base ok qua hanno finito quindi diciamogli di scavare qua e a questo punto di scavare qua e ci permetterà di costruire di finire di costruire tutta questa zona qua senza dover andare a scavare sotto e a questa da questo lato anche se a breve fra qualche giorno avremo bisogno di svuotare le latrine le latrine producono terra inquinata che va processata tramite il terricciato questo affare qua che abbiamo trovato abbiamo svelato con la prima branca della ricerca fra l'altro andiamo a vedere abbiamo svelato anche condotto per liquidi il ponte la pompa per liquidi lo sfiato e poi qui la fioriera la cassetta delle razioni e il terrario algale che ci permetterà di tramutare la lindirida carbonica che si ammassa praticamente verso il basso in ossigeno utilizzando le alghe attenzione perché poi le alghe quando finiscono sono cazzi intanto qua abbiamo scoperto che c'è altra acqua ottimo è già arrivato qualcun altro quindi vogliamo andare a vedere abbiamo lo sbuffetto e non mi sembra il caso di andare a recuperarlo perché butta fuori melma la melma anche se questo ce la butta fuori senza germi non lo so non me lo ricordo se lo butta fuori con i germi o senza l'altra cosi diciamo però la melma butta fuori se non la si raccoglie e non si processa subito butta fuori continuamente ossigeno inquinato quindi adesso è meglio lasciarlo perdere poi abbiamo interessi pulizia forza agricoltura creatività pulizia e consegna abbiamo max tratti mattiniero non è male stomaco senza fondo calorie consuma tante calorie c meno 500 a ciclo rispetto agli altri è un frignone un pallonciniere quando è contento diventa un pallonciniere a questo punto per secondo me potremmo prenderci sarebbe l'ideale prenderci agricoltura però magari aspetto un personaggio che ha solamente agricoltura in modo da velocizzare il processo pulizia e consegna secondo me va benissimo e lo chiamiamo e con ordo va benissimo genera quando si genera un nuovo personaggio è meglio metterci subito un lettuccio e glielo mettiamo a che non ci abbiamo spazio va bene glielo mettiamo qua per ora al massimo dovrà usare i bagni un po distante dagli altri va bene e quando si genera un nuovo personaggio ci da subito la possibilità di andare a dargli l'abilità un punto abilità c'era da subito quindi direi fattorino sviluppiamo la branca di fattorinaggio e poi tutto fare quindi al massimo questo poi gli cambiamo il nome fattorino quindi cambiamogli il nome dove sei e con orda di questo serve per ricordarsi chi sono questo qua lo chiamiamo un bartolino il nostro fattorino perfetto abbiamo svelato anche condotte del gas ponte pompa e lo sfiato andiamo a scegliere una nuova ricerca anzi no dobbiamo fare gestione della pressione per avere le piastrelle le porte stagne perfetto ma come mangiano di gusto cioè più o meno è già ora di cena e il lettuccio non ce l'hanno costruito quindi bartolino dormirà in terra stanotte va bene dai la terza notte è arrivata quindi direi che a questo punto io stacco con la registrazione andiamo avanti con la live registrerò gli episodi comunque di seguito durante le live quindi poi pubblicherò tutto su youtube e ci vediamo nel prossimo episodio noi qua in live andiamo avanti ovviamente